Pirati dei Caraibi, Flauto Dolce. E poi passo alle patch notes, che sono un pelo più importanti. Not bad. Le abilità di Seer, gialette, rilette. E visto che appunto molte novità le ho già trattate, come le abilità di Seer, la Rampage LMG, i cambiamenti alla mappa, vi lascio direttamente a un riassunto di queste cose prima di passare a leggere le patch notes vere e proprie, con tutte le modifiche alle armi, alle leggende. Non serve ringraziarmi, lasciate mi piace, ma soprattutto vi aspetto questa sera per provare la season insieme, mi raccomando. Allora, abilità passiva, bene o male l'abbiamo già commentata, quindi quando entri in modalità mirino, compaiono questi simboletti gialli che ti indicano la direzione dei nemici. Cioè, tanta roba, tanta roba. Abilità tattica, richiama dei microdroni che generano un'esplosione a scoppio ritardato, povera esplosione, in grado di attraversare le pareti e fermare e rivelare i nemici. Anche qua dice fermare i nemici. E sì, abbiamo visto il fatto del kit fenice, quindi probabilmente è vero. Abilità ultimate crea una sfera di microdroni che rivela la posizione dei nemici che si muovono o aprono il fuoco al suo interno. Questa è la nuova raffineria, chiamata controllo termico. Prende tipo dall'inizio di raffineria di prima alle due casette laterali, quindi è tipo enorme. Sifone di lava, zona che sostituisce laboratorio di smistamento. E, indovinate, hanno messo la lava anche qua. Quindi, nuova zona al posto di Trainyard. C'è la grandissima modifica che hanno fatto a bel vedere. Come potete vedere scorrendo, potete notare che, hey, hanno tolto un silos. Questa è la Rampage LMG, la nuova arma, la nuova mitragliatrice in arrivo su Apex con la stagione 10. Il rinculo sembra abbastanza facile da gestire, è quasi esclusivamente verticale e, inoltre, appunto, l'arma ha un ratio di fuoco molto basso. E questo vuol dire che, anche da distanze abbastanza elevate, sarà molto semplice da controllare. I danni sono 42 alla testa, 28 al corpo e 24 alle gambe. L'arma è pensata soprattutto per gli scontri da media-lunga distanza, ma penso che con questi danni non possa fare poi così schifo anche da vicino. A maggior ragione se si utilizza la meccanica di ricarica con la Thermite, che aumenta il ratio di fuoco dell'arma e ti permette anche di rompere le porte, come abbiamo visto nel trailer. E il sistema delle ranking di un'arena, sì, l'hanno detto, praticamente 10 match di piazzamento e, in base ai 10 match di piazzamento, ti da un rank. Per dire, puoi partire direttamente da Platino e, poi, in base alle partite, vittorie ti fanno salire, sconfitte ti fanno scendere. Nessun costo di ingresso, nessun punto per kill e assist. Quality of life, aggiunto un nuovo badge, e qua io rosico, perché questo l'avevo già visto. C'è il badge per le win streak, per 2, 3, 4, 5, e io ne ho 21! Io speravo che l'ultimo livello fosse tipo 10, 15, 20, che vabbè, era improponibile, però c'è 5, non lo so. Cioè, Dracor ha 7 win di fila, a sto punto un 10 potevano mettere. Grande Dracor, cioè. Hanno aggiunto, hold on, quando uno ti pinga un nemico tu gli puoi dire, aspetta brother, non pushiamo adesso. Sono stati aggiunti suoni diversi per quando uno viene rianimato con lo zaino oro. Tanto i rumori non si sentono, tanto quando uno viene restato non lo senti lo stesso. Non mi ricordo, mi pare che nel negozio heirloom adesso ci sia solo l'heirloom. Cioè, se tu vai sull'heirloom di Bangalore ti mostra solo l'heirloom, penso, mentre adesso ti mostra anche posa e frase, immagino. Cioè, a me non è mai capitato di dover vedere gli heirloom nel negozio, perché solitamente li sblocco appena usciti con l'evento, quindi. Non lo navigo così tanto il negozio degli heirloom, però, fotte e siega, tanto non lo trovo, ci sta. Aggiornamento domani alle 19.00. Ho visto questa cosa coi pacchetti e io ero tipo convintissimo che avessero messo il counter dei pacchetti aperti, per vedere quanto ti manca l'heirloom, e in verità no, hanno solo messo che adesso sai dei pacchetti che hai da aprire quanti sono leggendari, quanti epici, quanti comuni. Tra l'altro, questo account ha 122 pacchetti, di cui 74 leggendari. Cioè, qua, non lo so, sviluppatore giftatene un po' di meno di pacchi leggendari, così è anche esagerato. Passando alle cose interessanti, Legend Metafuse era letteralmente tutto quello che era già stato spoilerato, quindi i nemici che vengono catturati dall'Ultimate adesso vengono scannerizzati a tutto il team, e boh, cioè praticamente Fuse, Valk, Bloody, Crypto, Seer, mettetela, un'altra leggenda per scannerizzare i nemici. Esplosione, durata dell'esplosione aumentata del 100%, ossia raddoppiata e abilità passiva adesso può essere disattivata e riattivata. E io invito tutti a riprendervi il day one della season 8, la mia prima, la prima partita Confuse. L'ho detto letteralmente alla prima partita, che l'abilità passiva rompeva il c***o e dovevano dare il modo per disattivarla. Perché per dire, se tu hai Confuse, uno che è sopra il tetto, gli vuoi lanciare la granata a palombella, non lo potevi fare. Perché te la lanciava in cielo, la lanciava troppo lontana. Poi Horizon ho visto una cosa molto carina, in pratica hanno ridotto il rallentamento dopo che l'ultimate ti ha attirato per la prima volta. Quindi quando lancia l'ultimate ti attira e dopo che ti ha attirato puoi uscire più velocemente. E se non sbaglio, quando provai la season 7 in anticipo, era così. E di contro hanno aumentato la velocità di movimento in aria quando utilizzi l'L1, a una via di mezzo tra l'uscita e i valori di adesso, praticamente. Quindi non l'hanno portata forte come un tempo, ma una via di mezzo. Revenant, idem, avevano già spoilerato tutto. Quindi adesso c'è un avviso visu... visivo. Un avviso visivo e audio quando il totem della morte sta per scadere. E hanno aggiunto un rallentamento dopo che sei stato richiamato al totem. Quindi praticamente se già ti laseravano una volta tornato al totem, adesso se torni al totem e hai qualcuno camperato, sei tipo esploso. Caustic, i danni del gas adesso partono a 5, mentre adesso erano, non mi ricordo nemmeno quanti, e incrementano di 1 ogni 2 secondi all'infinito. Cooldown della tattica ridotto da 25 a 20, cooldown della ultimate ridotto da 3,5 a 3 minuti, durata dell'ultimate ridotta da 20 a 15 secondi. E boh, cioè secondo me Caustic l'hanno potenziato tipo un botto. Ma l'ho detto che non sanno fare le vie di mezzo, perché... Cioè adesso il gas fa più danni di quelli che faceva prima che lo nerfassero. Allora, fuori dall'airdrop, solo il prowler, dentro all'airdrop, spitfire alternator, quindi 4 armi dentro all'airdrop. Nuovo hop-up boosted loader. Allora, se ricarichi il caricatore, quasi vuoto ma non a 0, quindi devi essere bravo tra virgolette a trovare il timing a ricaricare quando hai ancora 1 o 2 colpi dentro. Ti ricarica più veloce e nel prossimo caricatore hai dei colpi extra. Ed è per emlock e wingman. Per fare spazio a quest'hop-up, l'anvil receiver che ha il castello e la fondina estrazione rapida vanno via, salutano. Nuova rotation di armi a dotazione completa. Hanno cambiato i caricatori, nel senso che adesso i caricatori aumentavano la velocità di ricarica e questa è una cosa che penso non sapesse tipo nessuno. Lo stesso effetto è stato spostato ai calci, quindi sai calcio viola, ricarichi più veloce che con calcio bianco. Sono stati cambiati i calci e va bene, non importa. Allora, le Hellstar l'hanno praticamente trasformata nell'arma finale, hanno fatto 10 miliardi di cose. Allora, adesso utilizza i caricatori energetici. Se metti il caricatore energetico sull'Hellstar, ci vorranno più colpi perché si surriscaldi. Adesso l'Hellstar utilizza lo stabilizzatore canna, perché il fatto è, utilizza lo stabilizzatore canna, però non hanno detto se il rinculo di base resta uguale o no. Quindi probabilmente senza stab è come adesso e con lo stab migliora. Questa frase qua è tipo in arabo, non ho capito che cazzo voglia dire. È incrementato lo spread dei colpi in hipfire. voice crack. Io non vedo l'ora, cioè secondo me sarà tanta roba l'Hellstar. Aspetta due giorni. Due giorni dico perché domani ovviamente, chi cazzo lo prova sir domani, domani. Domani accendete alle 19. Vi beccate due giorni, sì due giorni, due ore di download. Finirete le due ore di download, direte che bello posso provare la season. Avvierete il gioco, non riuscirete a giocare perché i server saranno offline. Unlucky. Hanno ritoccato i moltiplicatori per le LMG. Cioè dovrebbero essere meno forti perché, vabbè, vedremo. Hanno migliorato i tempi di estrazione e robe varie per le pistole. Prowler va benerfato, cioè. Quindi il Prowler esce dall'airdrop e resta letteralmente uguale. Letteralmente uguale. Non hanno toccato il caricatore, non hanno toccato i danni, non hanno toccato il rinculo. Non hanno toccato niente, hanno tolto il selettore di fuoco. Hanno aumentato il tempo tra ogni scarica da 0,20 a 0,24. Attenzione. Secondo me il Prowler sarà un problema. La Spitfire entra nell'airdrop e torna letteralmente come era prima. Cioè hanno riaumentato i danni, hanno ripristinato l'Hipfire, quindi spara più preciso quando non miri. E hanno riportato il caricatore viola da 50 a 55. Alternator torna. Torna il Disruptor Rounds, che sarebbe Perfora Scudi. Ok, non mi veniva il nome. Perfora Scudi incrementa i danni allo scudo del 40%. Può essere trovato solo per l'Alternator da Capsula Assistenza. 30-30 Repeater. Attenzione, baffato, incrementata la velocità di ricarica quando equipaggi un calcio. Pazzesco. Eva 8 ridotto di tanto. Significativamente il ratio di fuoco quando hai l'otturatore equipaggiato. E vabbè, cioè i cambiamenti all'arena. Non ho voglia, non ho voglia. Guardate, hanno cambiato tutti i prezzi di tutte le cose come hanno fatto per season scorsa. Incredibile. Pazzesco. Non so se ci fosse qualche bug fix. Madonna, quanti ne hanno fatti per Valk? Valk aveva tutti questi bug da fixare. Se li sono inventati e li hanno fixati apposta. Ma cosa vuol dire riassuntino? Caustic Nuovo Dio. Ma cosa vuol dire riassuntino?